Enzo, spiega ai nostri fans a Bari come si usava quando si rientrava a casa che si diceva una certa cosa, non so... Qui diceva prima di fare la vicinity garage quando si entrava a casa, non so che se tratta nella casa Quando si entrava a casa deve che usava non sra porque pensavano sempre più확 creò un articolo e poi ci vuoi sentire la croce. E adesso? Eh, ma non lo so che io dico ancora, l'ho giunto e non lo so che ci consigliare. Però sto andando a fare tant'idea per la casa, che non lo voglio dire. Roba vecchia, vecchie dicenze, vecchie storie.